Una DR che inizia zoppicando, Santo Pazzana tira la carretta, quattro punti subito, il pareggio con la trillata di Scaffiri, poi tutto sul velluto. Sì, ma non è la prima volta che partiamo un pochino arrancando, poi ci mettiamo in ritmo con la difesa, e viene tutto di conseguenza, se si difende forte è conseguenziale che in attacco riusciamo a trovare soluzioni migliori. Per quanto mi riguarda sono qui apposta, sono qui per dare una mano ai super veterani, Fabrizio, Ciccio e Marco, e dare consigli e una pacca sulla spalla quando vedo magari Giovanni un po' fuori fase, a Lorenzo che fa qualche errore, ha bisogno di un po' di supporto, sono qui anche per questo, è tutto nella norma. Sta andando bene, sei vittori di fila, quindi per ora speriamo di continuare su questa linea. Ti abbiamo visto proprio dare indicazioni alla squadra, ai tuoi compagni più giovani e via dicendo. Stasera il ritorno, seppur per pochi minuti, Marco pensa bene, una squadra un po' acciaccata, però pian pianino sta per tornare in campo anche Sergio Panzera? Sì, aspettiamo il rientro di Sergio con ansia, perché sotto canestro dobbiamo un attimino ampliare le rotazioni, perché io e Gianni e Lollo ci stiamo facendo in quattro da inizio anno, quindi sicuramente il ritorno di Sergio può solamente che fare bene. Marco si è preso tutto il suo tempo, oggi ha giocato dai 5 ai 10 minuti, quindi va benissimo il suo rientro così graduale, ha dato una mano in un momento abbastanza caldo nella partita, quando comunque Catanzaro era sempre lì 5-6 punti sotto e Marco ha anche aiutato a dare uno strappo importante a metà secondo quarto. Per quanto riguarda gli infortuni di oggi, ne passa uno, ne entra un altro, Fabrizio Scaffidi si è anche lui stirato al flessore, Speriamo di giocarci tutti in fortuna inizio anno così arriviamo pronti per i playoff che dobbiamo fare. Grazie mille Santo. Grazie a voi del solito seguito e dell'importanza che ci date e che ci fate sentire veramente giocatori di altre categorie e non di Serie D. Grazie mille.